Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale di Quenti Channel come potete vedere sono diventato antisportivo anche se io non capisco il motivo diciamo di questa cazzata di diventare antisportivo eccetera Comunque oggi sono qui con questo nuovissimo video perché è uscita una nuova auto su GTA Online ovvero la fantastica Ocelot XA21 Quest'auto costa ben 2.375.000 dollari e devo dire secondo me ragazzi vale questi soldi perché io che l'ho acquistata è veramente una figata assurda Quest'auto ovviamente è una super ma già dal suo design esterno potete vedere ragazzi quanto è stupenda e soprattutto gli interni sono ben fatti a differenza di tante auto ragazzi E devo dire che questi interni assomigliano molto alla nero ragazzi alla nero custom Comunque sia quest'auto come potete vedere ha lo spoiler di dietro che si alza come la T20 Inoltre ragazzi quest'auto ha veramente delle ottime prestazioni come state vedendo dalle modifiche io l'ho modificata al massimo Alcune modifiche le ho lasciate così invariate perché mi piaceva così Comunque ragazzi ci sono veramente tantissime modifiche fino addirittura al motore all'aspetto esterno del motore Quest'auto devo dire che ha delle ottime prestazioni come al solito ogni volta che provo un'auto piove su GTA Online E anche questa volta ragazzi stava piovendo e devo dire che nonostante diciamo ci fosse la pioggia Comunque quest'auto ha avuto una grande tenuta sulla strada Quindi diciamo che anche se comunque sia non è un fuoristrada ma è una super Diciamo che è molto aderente, resta molto aderente sull'asfalto Quindi vedrete infatti nel video che andrò ad una velocità abbastanza veloce Riuscirò comunque sia a girare senza uscire fuoristrada, sciare eccetera Inoltre è possibile anche modificare come potete vedere il colore degli interni E sono veramente una figata assurda Per quanto riguarda i freni e l'accelerazione devo dire che frena abbastanza bene E soprattutto ha un'accelerazione abbastanza veloce Comunque sia ragazzi stiamo parlando di una super di oltre 2 milioni di dollari Quindi diciamo questi aspetti sono in un certo senso sottintesi Comunque sia ora non so se questa è una delle super più veloci del gioco Forse no ragazzi Perché forse una delle super più veloci è la Proto Ma abbiamo anche altre super Comunque secondo me se avete più di 2 milioni di dollari su GTA Online Vale assolutissimamente la pena comprarla Anche perché ragazzi già dal suo aspetto mi piace tantissimo E devo dire che forse ora è diventata la mia super preferita ragazzi Perché è veramente fantastica esteticamente E dalle prestazioni non mi ha deluso affatto Quindi io ragazzi la comprerai altre 100 mila volte su GTA Online Ovviamente se avete soldi ragazzi vi consiglio vivamente di acquistarla Perché è fatta veramente benissimo E niente io spero allora che questo video vi sia piaciuto E che quest'auto soprattutto vi sia piaciuta Inoltre voglio augurare a tutti voi un buon Ferragosto E niente ragazzi noi ci vediamo alla prossima Io adesso vado al mare Lasciate come al solito un mi piace Un commento Noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti